Sì, è stata una partita tosta contro un ottimo avversario, siamo stati bravi a reagire al gol subito, abbiamo avuto una grossa reazione nel secondo tempo, poi siamo stati un po' sfortunati negli episodi, probabilmente con un po' più di cattiveria e anche episodi arbitrali un po' forse discutibili, potevamo ottenere i tre punti. Sì, sono andato molto vicino, è stato molto bravo Gian a darmi una bellissima palla, purtroppo forse con un po' più di cattiveria anche in quella situazione sarebbe potuto ottenere qualcosa in più. Il mercoledì andiamo ad affrontare una squadra ostica, un'ottima squadra che ha fisicità, corsa, qualità, ottimi giocatori, quindi che all'andata comunque ci ha creato, nonostante la nostra vittoria, parecchie insidie. Non sarà facile, però se noi riusciremo a fare quello che proviamo in settimana, quello di cui siamo capaci, secondo me riusciremo a giocarcela alla grandissima. Ma sì, sono stati un po' di eventi sfortunati diciamo quest'anno, tra Covid, infortuni qua e là. Io adesso cerco sempre di allenarmi al massimo, di essere a disposizione dell'allenatore sempre e poi sta a me sfruttare le occasioni che mi vengono date. Sì, 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 sono quelli i miei ruoli da esterno, che può essere a tre, a quattro, a sinistra, a destra. Io comunque mi adatto, insomma, sono sempre a disposizione del mister, al di là del modulo e degli schemi tattici. Ma gli obiettivi personali vanno di pari passo con quelli della squadra, dai, cerchiamo di chiudere al meglio questo campionato un po' particolare, ci mancano otto partite, cercheremo di andare sempre in campo per vincerle tutte e personalmente se viene fuori qualche gol ben venga che possa aiutare sia me che la squadra.